Ha riferito che vi era stata solo una banale discussione con la propria moglie, ma la verità era un'altra. Avrebbe infatti tentato di strangolare la consorte dinanzi ai suoi figli dopo aver messo a soccuadro la sua abitazione. E' quanto ha scoperto la polizia di Gela che ha denunciato un uomo di 44 anni, originario di Vittoria, ma residente in città. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, l'uomo, non contento, dopo la fuga della donna a casa di una vicina, ha inviato, tramite messaggio WhatsApp, la foto di un coltello a seramanico seguito da una minaccia. Se non torni a casa, la brucio. Il 44enne è accusato di detenzione abusiva di un fucile e minaccia grave. Nella sua abitazione gli agenti hanno trovato 10 fucili, una pistola semiautomatica e varie munizioni. La scoperta più sconcertante è stata quella del ritrovamento del coltello a seramanico, con la lama ancora aperta, nascosto dentro la federa di un cuscino. La moglie è stata colta da malore e trasportata in ospedale. Ne avrà per quattro giorni per feriti al collo e stato d'ansia reattivo. All'arrivo dei poliziotti, l'uomo ha riferito che era tutto a posto, solo una discussione tra marito e moglie, ha detto ai poliziotti. All'interno, però, l'appartamento era sotto sopra, stanze parzialmente a suo quadro, metri rotti, cassetti e sedie riversi a terra. La moglie si era rifugiata, come dicevamo, presso l'abitazione di una vicina di casa, assieme ai suoi figli, perché a suo dire era stata poco prima minacciata ed aggredita dal marito preso da una furia senza precedenti, tanto che aveva tentato di strangolarla davanti ai figli e solo grazie a quest'ultimi che erano intervenuti in sua difesa ha desistito. L'intervento della volante è stato provvidenziale. Quella minaccia, infatti, poteva trasformarsi in una tragedia. Quella minaccia, infatti, poteva trasformarsi in una vicina di casa.